La prima cosa è fare i complimenti a Rieti perché è stata una buona squadra che ha saputo combattere e ha messo in campo sempre le loro caratteristiche che le hanno provate fin qua, che sono la fisicità e il combattimento. Nel complesso di tutta la serie sono degni i vincitori. Complimenti alla mia squadra che nonostante tutte le vicissitudini e tutti i problemi che abbiamo avuto siamo arrivati fin qua, è stato molto difficile dopo un 0-2 rialzarci, ci siamo rialzati, abbiamo lottato in due gare in casa e siamo venuti a giocarcela qua in gara 5. Abbiamo subito un pugno in faccia all'inizio e non siamo riusciti a recuperare, era complicato contro questa squadra e in questa atmosfera è diventato molto molto difficile.